Il debutto sarà a Parigi ma poi dopo la trasferta francese la carovana tornerà a casa ad Arezzo per accendere le luci del Teatro Petrarca. È tutto pronto per l'edizione 2021 di Sud Wave. Il festival ideato e organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia porterà di nuovo Arezzo al centro della scena culturale e musicale internazionale. Sono stato un rocchettaro anch'io e per certi versi ancora la musica rock mi appassiona quindi con grande gioia che stamattina abbiamo comunicato queste iniziative messe in piedi da Mauro Valentini perché queste iniziative hanno un nome e un cognome che è una grande esperienza in campo musicale giovanile, in campo di musica rock e quindi Dante Rock, l'evento di Sud Wave a Parigi e poi le due iniziative aretine. Quindi grande vitalità in ambito artistico e musicale non soltanto in ambito di musica classica. Quindi questo mi fa enormemente piacere. Ha fatto anche una sorpresa a Mauro Valentini. In realtà gliel'avevo già detto che sarei andato a Parigi il 15 e quindi parto il pomeriggio del 15 e ritorno la mattina del 16 quindi vado esclusivamente per quell'evento perché mi fa piacere essere presente. Alla fine quel palcoscenico è un altro dei palcoscenici nei quali si presenta Arezzo con nome e cognome quindi è bene che il primo cittadino se può vada a rappresentarla per far crescere l'immagine di questa città al di fuori delle sue mura. A Dante il sommo poeta sarà dedicata la serata del 18 dicembre che prenderà il nome proprio di Dante Rock. Quattro cinque appuntamenti fondamentali uno con Elio del gruppo Elio delle storie teste il 16 giovedì alle ore 3 sarà un omaggio a Elio perché è stato scelto come l'artista più importante di Arezzo Wave. Poi la sera del giovedì e del venerdì ci sarà Sud Wave quindi gruppi che vi invito veramente a scoprire perché sono in data unica per l'Italia su tutti la scaramba e il venerdì una serata speciale con la notte delle chitarre e tante altre cose. E poi il venerdì pomeriggio ci sarà la finale nazionale di Arezzo Wave Contest quindi i migliori artisti talenti che poi diventeranno famosi. Tutto questo è completamente gratuito. Il sabato ci sarà la serata clou, la fine del nostro percorso con Dante Rock che sarà ingresso con offerta al Calcit e quindi terminerà Arezzo Wave. Durante il sabato ci sarà anche l'incontro con Claudio Trotta che è uno dei più grandi organizzatori di Arezzo Wave e poi ci sarà quindi l'incontro con il presidente della regione toscana Gianni per premiare gli artisti che hanno fatto Dante Rock. Un evento nell'evento che è Arezzo Wave Station che appunto porterà Elio ad Arezzo e altri importanti incontri nel campo musicale ma soprattutto sarà la prima pietra in quella che è la digitalizzazione dell'archivio video di tutti i concerti di Arezzo Wave nei vari anni e appunto la prima pietra di questo sogno di questo progetto di Mauro di creare questo Hard Rock Café in Salza Arritina. Quindi abbiamo dato volentieri il patrocinio e il contributo come amministrazione comunale ad Arezzo Wave Station che però appunto fa parte del più ampio programma di Sud Wave Dante Rock di questi quattro giorni tra Parigi e Arezzo. Grazie a tutti.